L'attenzione della politica rivana torna a concentrarsi sulla delicatissima vicenda dell'area ex Cattoi di Viale Rovereto. Nei giorni scorsi sono state depositate due emozioni che hanno diviso e creato malumori all'interno della stessa maggioranza. La prima porta la firma della consigliera di UPT Isabella Iandarino, mentre la seconda è firmata da Betta e Giuliani del PD e da Zanoni, Martini e Serafini del PAT. Con i tempi agli arretrati del Consiglio Rivano, la discussione rischia di arrivare tra diversi mesi. E quindi, nelle ultime ore, sono venute avanti due opzioni, ovvero di stabilire in sede di riunione dei capigruppo la priorità assoluta a questo tema, oppure chiedere un consiglio straordinario d'urgenza per il quale alle firme dei proponenti, cioè i consiglieri di maggioranza, dovrebbero affiancarsi quelle dei colleghi di minoranza. Un passaggio, questo, che sarebbe imbarazzante per sindaco e coalizione di governo. Gabriele Bertoldi e Gabriele Amel, del PD, sostengono che si può tornare a parlare dell'area ex Cattoi dopo il 24 marzo, data che corrisponde alla scadenza ufficiale del piano fascia lago, per poter ragionare con calma e a mente lucida. Grazie.